Il governo Meloni e la maggioranza di centrodestra sono spalle al muro sul finanziamento della sanità. Cinque regioni, anche di centrodestra, hanno firmato un disegno di legge che porti il finanziamento del sistema sanitario italiano a livello di quelli della Francia e della Germania, al 7,5 del PIL. Si tratta di una legge necessaria perché senza questo provvedimento si continueranno a fare provvedimenti come quelli che sono stati fatti quest'anno dove i 3 miliardi di aumento del Fondo Sanitario Nazionale si sono bruciati totalmente con l'inflazione. Se poi ci si aggiunge anche il costo supplementare dei contratti e l'aumento del costo dei farmaci stabilito in favore delle grandi case farmaceutiche proprio dal governo Meloni la frittata è fatta e quindi noi ci auguriamo che il Parlamento della Repubblica a prescindere dagli indirizzi che riceverà abbia un sussulto di dignità e di vicinanza a tutti gli italiani e approvi questa legge sacrosanta.